Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti ai 3 cioccolati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Ingredienti sono cioccolato bianco, cioccolato fondente, cioccolato al latte, farina di tipo 00, zucchero di canna, scorza di limone, burro, uovo e tuorlo e bicarbonato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente, il cioccolato al latte e il cioccolato bianco. Ed azioniamo i bimbi per 5 secondi, a velocità 7. Mettiamo da parte il cioccolato. Senza lavare il boccale, mette nel boccale lo zucchero di canna e la scorza di limone ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Veniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, il burro, l'uovo e il tuorlo, il cioccolato tritato e il bicarbonato. E facciamo impastare per due minuti in modalità spiga. Compattare l'impasto formando un cilindro di circa 7-8 cm di diametro, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30-40 minuti. abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo, adesso formeremo i biscotti. cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 12-15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti e 3 cioccolati. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!